buongiorno ragazzi e buona festa della liberazione da che cosa sicuramente avrete visto questi meravigliosi scambi sui social ehi da chi siamo passati dai nazisti agli imperialisti americani avrete visto revancismi di un po di plebaglia avete visto qualche memino fatto male avrete visto un sacco di discussioni un sacco di esondamenti belli belli perché questa ragazzi la festa della liberazione è una festa che ci fa discutere ed è sorprendente di quanto la gente riesca a sorprendersi che questa festa faccia discutere perché questa festa ci fa discutere preambolo che cos'è il 25 aprile il 25 aprile è il giorno in cui appunto il 25 aprile del 1945 il comitato di liberazione nazionale dell'alta italia i partigiani del nord per intenderci dichiararono la totale insurrezione generale in tutte le città occupate dal regime repubblichino di mussolini quindi del rai tedesco e che poco pochissimo tempo dopo avrebbe portato ovviamente poi alla caduta del regime l'arrivo degli alleati anche in quelle zone la liberazione del paese e la fine di mussolini tutte quante quelle cose simpatiche di conseguenza si tratta di una data che ricorda un conflitto è una data che ricorda il momento in cui una parte dell'italia prevale su un'altra e questo la gente non lo vuole capire in tutta quanta in tutto il lungo periodo della nostra storia repubblicana la gente la narrazione sarà quella che la guerra di resistenza è stata una guerra di liberazione inteso come c'è un invasore l'invasore tedesco teutonico che ha invaso il nostro paese lo ha occupato e gli alleati con gli italiani sono andati a salvarli e hanno liberato il paese ed è stato questo è stato certamente questo i tedeschi hanno occupato le nostre caserme i nostri le nostre città le nostre strade e collaborando con i fascisti hanno con i fascisti scusatemi hanno cominciato a uccidere persone a fare rastrellamenti già da tempo ovviamente il regime nazista era stato aiutato dal regime fascista per sapete no cose simpatiche appunto i rastrellamenti degli ebrei i campi di concentramento perché sì d'altronde eravamo amici era giovedì cosa chiedevamo fare ma non è stata solo una guerra di liberazione è stata soprattutto come la descrive in maniera molto brillante montanelli una guerra civile una vera e propria guerra in cui c'erano italiani contro italiani perché beh la discussione è un attimo immediata no dopo diversi anni in cui vivi in un regime totalitario assassino distruttore autarchico macellaio e folle la gente tende un attimo a rivalutare diverse questioni di conseguenza alcune persone credono che sia proprio il caso di fare a pezzi tutti quanti quei bastardi che ci hanno fatto soffrire come dei maiali portando la morte di mezzo milione di persone in italia farci morire morire congelati in russia in albania in grecia in abissinia in spagna sì sono sono cose che causano un po di astio sapete come e di conseguenza sono partiti i famosi regolamenti di conti nel nel libro i sentieri dei nidi del dei nidi di ragno vengono raccontati in maniera molto chiara chi sono i partigiani ossia persone assolutamente non perfette tutto tranne che eroi i partigiani e noi questo facciamo molto spesso fatica a riconoscerlo soprattutto da una parte della dell'intelligenza di sinistra soprattutto adesso un po di meno però nel passato lo faceva in maniera particolare rifiutavano di riconoscere il fatto che i partigiani avessero commesso delle atrocità perché in questi regolamenti di conti le atrocità ci sono state e sono state tante e sono state a volte addirittura assurde ma questo in realtà è abbastanza umano nel momento in cui ci sono dei regolamenti di conti i partigiani cominciarono a fucilare sommariamente tutti da da gentile gerarcha fascista fino a quel quel gerarcha che aveva ucciso 14 ragazzi nella valle del piave perché avevano rubato delle pannocchie che cazzo ne so a dei trucchi gente cattiva di sconseguenza no i partigiani fucilavano gente cattiva ma c'erano dei casi in cui i partigiani fucilarono intere famiglie di persone che non c'entravano niente con quelle atrocità commesse dai fascisti e dai nazisti ma questo perché a volte per errore perché infatti per lavorare nell'italia fascista dovevi essere tesserato al partito se non avevi la tessera non lavoravi mica non ricevi non ricevi neanche le quote di pane non ricevi niente era proprio una merda di conseguenza a volte venivano scambiati per dei collaborazionisti per dei traditori e quindi fucilati persone che avevano niente a che fare con questo regime altre volte ancora non solo non avevano niente a che fare ma erano ma erano persone che vennero uccise dai partigiani che questi partigiani però usarono la scusa per ammazzare questa gente qui dicono ah si sono fascisti e ammazziamoli quando in realtà le motivazioni per cui li avevano uccisi erano altre accade anche questo accade anche questo ovviamente nel senso qua non stiamo facendo due pesi e due misure qua i criminali erano non so come dire se vogliamo mettere le cose in chiaro erano un attimo quei signori che andavano per i villaggi a rastrellare persone e dargli fuoco e mandarli sui treni e quel tipo di persone è ovvio non è che c'è molto da dire ma c'è comunque questo fatto i partigiani hanno commesso delle atrocità e questo deve essere riconosciuto ma perché deve essere riconosciuto perché ancora una volta mi sento qua di parlarvi di coscienza storica a noi occorre la coscienza storica per poter comprendere le motivazioni e poter comprendere che tipo di paese era in modo poi da molto banalmente per fare tirarla su buona per evitare di fare certi errori li facciamo comunque però almeno possiamo limitarli però davvero dobbiamo abbiamo in quest'epoca soprattutto in cui la comunicazione è una cosa fitta globalizzata e bella presente è un nostro dovere informarci un minimo di più per capire di nuovo questo maledetto paese e questo paese ragazzi non è che fosse esattamente uno scherzo è la famosa frase un giorno ci sono 45 milioni di fascisti e il giorno dopo 45 milioni di antifascisti non è campata per aria il nostro paese dopo la fine della seconda guerra mondiale nonostante fosse distrutto trasformato in poltiglia violentato sventrato abusato da ogni buco ogni foro ogni roba credevamo di aver vinto quella guerra credevamo veramente di aver vinto quella era la percezione credevamo di esserci anche solo liberati di qualcuno e spesso questo ha portato anche a degli elementi di non so come dire tragici e anche ingiusti montanelli sempre racconta in maniera molto intelligente di come l'omicidio per esempio di mussolini fu una cosa atroce lui cita poi bocca definendolo una macelleria messicana l'omicidio di mussolini ma comunque necessaria perché avrebbe dilagnato ancora di più il paese perché di nuovo questa era una guerra civile una guerra civile che appunto è una guerra che divide ed è una guerra che appunto trova la sua concretizzazione nella celebrazione di una festa che appunto ricorda l'inizio non l'inizio ma l'ufficializzazione di un conflitto oggi non c'è tanto questo è per carità la gente ricorda la guerra di resistenza come una guerra di liberazione una volta un bel po' di meno perché c'erano molti più fasci probabilmente all'epoca sto parlando anche dell'epoca dei miei genitori per dire no dei vostri siete un minimo millennial l'idea è quella avete visto no ci sono state veramente poche provocazioni mi viene in mente ieri quel pugno di bifolchi della lazio che hanno messo lo striscione per venito mussolini quattro bifolchi ignoranti a milano poi la città più antifascista d'italia che bella milano riesce a delegarmi sempre delle meravigliose soddisfazioni costantemente amo proprio la mia stramaledetta città quanto mi manca ed è una guerra civile ed è la coscienza storica che ci può salvare e appunto ripeto in questi giorni la gente se lo ricorda come un evento da ricordare come un evento di liberazione e anche poi in seguito un evento di unità ma non dobbiamo andare tutto per scontato non dobbiamo andare tutto per scontato non nei fatti ma almeno nella memoria cosa vuol dire nella memoria non riconoscere tutto quanto come bianco e nero beh in questo caso nero e rosso tra comunisti e fascisti no no abbiamo bisogno della comprensione e abbiamo bisogno di mantenere questa coscienza storica per capire fondamentalmente che dico di paese siamo a che cosa siamo più diciamo inclini a credere l'uomo forte che ti risolve i problemi e poi manda mezzo milione di persone a crepare anzi ne manda mezzo 250 mila a crepare altri 250 mila muoiono in patria comunque comunque alla fine le cose si aggiustano no però è questo il punto coscienza comprensione non dividere tutto quanto tra rosso e nero ad essere un minimo obiettivi non nelle opinioni magari perché non si può essere obiettivi nelle opinioni perché siamo esseri umani io non sono obiettivo non voglio essere obiettivo non lo sarò mai come voi non lo sarete mai anche nel più profondo del vostro cuore non sarete mai obiettivi però si può essere obiettivi nella comprensione dei fatti perché i fatti sono obiettivi quelli lo sono i fatti la matematica quello lo sono di conseguenza ragazzi io vi auguro uno stupendo 25 aprile da passare con i vostri amici autarchici e e vi consiglio veramente di di crogiolarvi nella comunicazione di questo tempo nella possibilità di poter raccogliere informazioni nella possibilità di poter riconoscere e anche solo per il gusto di raccontare qualche fatterello come sottoscritto qua potete fare veramente quello che volete veramente quello che volete perché c'è questa frase di merda che viene cicciata fuori ogni volta questa frase del la storia la vincono i vincitori no vaffanculo la storia non la non la scrivono i vincitori non più si faceva una volta sì sapete quando questa cosa del la storia la scrivono i vincitori finisce di essere una cosa sensata appena tutti quanti possono mettersi con carta e penna e scrivere le cose anticamente la storia la scrivevano i vincitori giulio cesare andava in spagna la conquista commette un genocidio perché giulio cesare commette un omicidio ma la narrazione che viene portata a roma a parte che non mi fregava niente il genocidio è io ho conquistato la spagna fine della storia poi vai a rompere le palle sul fatto che il genocidio in spagna sì ma chi ti crede ma chi se ne frega lì la storia la scrivono i vincitori quello sì la scrivono gli egiziani la scrivono i seleuci di robe del genere ma oggi questo no noi oggi abbiamo la storia su tutto perché tutti raccontano la propria storia e questa storia è verificabile dai fatti infatti noi oggi siamo per questo motivo a conoscenza di tutti i grandi massacri di quest'epoca e non solo sappiamo dello sterminio in ruanda sappiamo dello sterminio di sebrenica dei genocidi degli ustasha dei dei campi di internamento negli stati uniti dei giapponesi negli stati uniti sappiamo dei campi di concentramento sappiamo sappiamo della cina nonostante non ci voglio far sapere noi sappiamo cosa hanno fatto i cinesi durante il comunismo sappiamo i milioni di morti sappiamo le migliaia di persone trasportate da una parte all'altra della siberia del chissà che posto orribile della russia portare per coltivare quel grano lì tirare giù quell'orzo là sappiamo tutti quanti i massacri della storia sappiamo delle filippine sappiamo degli armeni sappiamo tutto la storia non la scrivono i vincitori non più altrimenti non sapremo questi fatti sappiamo tutto per dire sappiamo dei campi di concentramento sappiamo anche che gli americani in un campo di concentramento uccisero non si sa come 50 tedeschi questa è una cosa che la gente lo raccontano in in shutter island per dire l'unico film in cui c'è questa cosa è accennata siamo in un periodo terribilmente privilegiato e per una comprensione della storia dobbiamo cercare di riconoscere i fatti di ogni magari anche ogni schieramento cioè cosa da dire ogni schieramento ma per una lucidità e una comprensione e quindi una coscienza storica possiamo farlo dobbiamo farlo e appunto anche solo per poter raccontare qualche fatterello a cena che è un po' anche quella la vita fatemi sapere cosa ne pensate e questo era Gio Pizzi buona festa della liberazione Pizzi out Grazie a tutti